Un po' a retro visto il mezzo utilizzato è sicuramente impossibile da non notare, dato il colore del ciclomotore. Un trentenne sulveno, Christian Gorkic, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla squadra mobile della polizia di Gorizia. L'accusa? Una rapina con strappo, a bordo del suo ciao rosa, ai danni di una signora che stava passeggiando col marito a bordo strada in corso Italia-Gorizia. Gorkic, in sede al ciclomotore, si è prima avvicinato, poi ha strappato la collana d'oro che indossava la donna facendola cadere a terra. Infine, si è dato la fuga. I fatti risalgono al settembre 2014. La donna, seguito della rapina, aveva anche riportato escoriazioni al volto. Le indagini della polizia portate avanti nel tempo hanno quindi permesso di individuare i trentenne, la cui identità inoltre non era nuova alle forze dell'ordine, visto che in passato lo stesso è stato arrestato più volte per reati simili. Adesso Gorkic è in carcere, dove deve scontare una pena definitiva di quattro anni.